3 in barriera, Pepe potrebbe anche calciare in porta, non si fida Gazzi Parte Pepe nel mucchio, anticipato Filippe Mera, attenzione, Krasic, rete, Krasic Più è in vantaggio Anche lui si è trovato nella posizione giusta, pronto per calciare, con il passo corto, è arrivato con il collo pieno Piede, perfetto il tiro, raso a terra, non ci arriva Gazzi, gran gol di Krasic, è il suo momento Aumenta sempre più la convenzione che la Juve abbia acquistato un grande giocatore Che da lì si può anche calciare Maurizio, la punizione, infatti Pepe però da come si era messo in corso è veramente corta Sul secondo palo, vedi l'aria spinta anche fuori dalla rigore, a volte si deve respingere lateralmente Qui ci arriva, forse un po' di ritardo Gazzi, vede arrivare il tiro, però era su terra, picchia due volte in terra Angolatissimo il tiro di Krasic Bello come Krasic si è andato a festeggiare il suo primo gol in Italia Proprio dai propri tifosi, andandoli ad abbracciare addirittura, nel vero senso della parola Ho rivisto sia a Gazzi, forse, ma era molto molto angolato Anche lui gli piace con i due attaccanti del Cagliari Questo era invitante proprio sul primo palo Aveva scelto anche il tempo giusto, ma anche di anticipare Chiellini, ma gli rimpalla il pallone Lì vediamo appunto ancora il gol di Krasic Se arrabbia che...